Ciao amici di una recensione e finalmente anche quest'oggi posso parlarvi del fumetto legato a Mister Vertigo, una saga che io ho adorato, probabilmente la migliore dell'ultimo anno solare, quindi la ritengo da comprare assolutamente in grande formato per tantissime ragioni. Guardiamola meglio insieme. Ed ecco dunque finalmente il fumetto di Marco Nucci, Petrossi, Ottavio Panaro, mentre la copertina è di Fabio Celoni. Bellissima, tra l'altro leggermente in rilievo e lucide, i personaggi proprio della Mario di Mister Vertigo e Topolino così impaurito e anche il titolo. Questa è la costina, non mi fanno impazzire, io Topolino Extra non li compro anche per questo motivo estetico, ma principalmente per una ragione di costi. Sono 13 euro a volumi, vengono ristampate saghe che stiamo leggendo su Topolino negli ultimi uno o due anni, insomma da quando c'è Bertonella Direzione, quindi non li ritengo necessari da avere. Però questo ho voluto comprare perché essendo la mia saga preferita nel 2020, ho preferito averla in grande formato. Qui saranno presenti solamente le prime sei puntate, quindi ahimè, ahinoi lettori, non abbiamo un fumetto completo, io spero dunque che prima o poi ci sarà Mister Vertigo parte 2. A livello estetico, ripeto, la costina non mi piace, tutto il resto però è abbastanza carino. La pagina gialla in apertura del fumetto, di nuovo il seno di copertina, la prefazione di Alex Bertani che semplicemente ci dà un'idea di quello che andiamo a leggere, che non ho bisogno io di ripetermi, è una saga comunque per me innovativa, che mette un nuovo personaggio nella banda dei cattivi, un po' come dice anche Bertani, tra gamba di legno e macchia nera, c'è pure questo Mister Vertigo, che io lo dico già subito, per me è un gran personaggio, però peccato che abbia un finale che non è presente in questo volume, ma l'abbiamo visto, è letto in Topolino abbastanza recente e quindi chissà, sarà effettivamente una fine col punto in conclusione, oppure effettivamente avrà un proseguio prima o poi. Io ci spero perché il parco di cattivi Disney a volte latita un po' e potrebbe essere davvero un buon inserimento. Io non andrò a spiegarvi la trama perché comunque ne ho parlato fino a qualche mese fa di questa saga, come vedete bellissimi disegni, in questo caso di Petrossi, di Rey, poi Panaro, comunque si alternavano, belle pagine bianche. La grammatura della pagina non mi piace troppo, secondo me le deluxe un tempo le facevano meglio, sarà anche il prezzo 13 euro, 14 che sia, per 170 pagine ci può anche stare, però la grammatura, ecco la carta, quando la sfoglio, mi dà la sensazione che sia un po' fragile, quasi come se dovessi fare un pochino di distrazione, girare la pagina, ho paura di romperla, però ovviamente i disegni, ecco, li ho voluti comprare anche per questo, sono bellissimi, poi mi piace un sacco a me quando finalmente una saga posto legge in un grande formato, io l'ho riletta ma ripeto, non sto a spiegarvela perché ne abbiamo parlato fino a poco tempo fa. Ripeto, sono solamente le prime sei parti, quindi abbiamo la prima, tra l'altro non c'è un indice, questo secondo me è un piccolo errore, perché è giusto metterlo. Abbiamo Topolino, il senso di Mister Vertigo, parte 1, che ovviamente è l'inizio di tutto, che troviamo su Topolino 3375, quindi parliamo di più di un anno fa, un anno e mezzo fa, poi abbiamo la parte 2, dopo una ventina di pagine circa, eccola qui. Abbiamo Topolino e l'incubo di Mister Vertigo, con Panaro ai disegni, successivamente ovviamente anche la seconda parte, perché solitamente uscivano sempre a botte di due, e poi ricorderete bene anche la storia legata al Natale, ovvero le piccole verità sul Natale di Nucci Petrossi, questa era uscita palesemente appunto durante le festività natalizie, con Topolino 3395, e non ho molto da dire, perché i disegni sono bellissimi, la saga a me è piaciuta molto proprio per l'innovazione, per il coraggio, Marco Nucci è arrivato come sconosciuto nel mondo Disney, ma in realtà è uno sceneggiatore già piuttosto affermato all'interno del fumetto italiano, e si è preposto tramite una serie di esperimenti come uno degli autori forse più promettenti, più ambiziosi, più coraggiosi, ripeto, perché portare un personaggio di questo calibro dal nulla, tra l'altro basandosi sulle fake news, che è un po' il mantra di questo personaggio cattivo, qualcosa anche di molto realistico, perché il mister vertigo si fonda molto su questa disinformazione, su questo passaparola disorganizzato, tanto che la gente arriva inizialmente ad amarlo, ma poi quasi a odiarlo, insomma è un po' il male del mondo attuale, secondo me, il mister vertigo non esiste nella realtà, ma tante volte tutti noi possiamo esserlo, secondo me, oppure lo è il nostro vicino di casa, lo è la persona che su Facebook ci scrive, secondo me qualche correlazione c'è, e alla fine ovviamente troviamo degli editoriali, che io non ho ancora letto, perché il volume comunque in qualche modo lo terrò da collezione, non penso di andarmelo a rileggere una terza volta, abbiamo un'intervista con Marco Nucci, fatta da Alex Bertani, direi, ovviamente, ecco, secondo me se dobbiamo dare un plauso a Bertani è proprio aver portato Nucci nel 2020 nel mondo Disney e nel 2021 Marco Rota, ecco, penso che queste siano le sue due più grandi iniziative che si è riuscito bene a portare avanti, poi anche la colana Topolino Extra, Topolino Gold, sicuramente ottime per chi ama la saga, in questo caso di mister vertigo, però non sono un amante io del grande formato, perché comunque sono saghe anche molto recenti che si possono tranquillamente evitare. Abbiamo anche uno studio dei personaggi, quindi già comunque quattro pagine redazionali di intervista, poi altre due, almeno prime due, su mister vertigo, il mago Arkadin, che per chi ha letto la saga è un personaggio che poi si rivelerà fondamentale, un po' protagonista in tutti gli effetti, dalla prima all'ultima puntata, mister Peppy, un tipo stralunato, folle, visionario, che effettivamente è praticamente ispirato a Willy Wonka, mi pare che nella mia recensione lo dissi, è proprio così, sembra effettivamente lui, guardate lo studio dei personaggi, anche com'era piccolino, probabilmente l'idea era questa, di farlo piccolino, per qualche modo si è evoluto, anche Arkadin comunque bisognava un po' capire come farlo, con la barba, pizzetto o meno, Lester Lercio, questo non me lo ricordo come personaggio, probabilmente perché è solamente all'inizio della presente, webmaster di fuffa.com e la marionetta, questo vabbè è forse l'icona di questa storia, insieme alla maschera gialla di Mister Vertigo. Il teaser della storia, perché ricordiamo che con Alex Bertani sono un po' tornati quelli chearoni teaser, o forse per la prima volta arrivati, perché io me li ricordavo anche in Topolino Passati, però questi sono un pochino più da suspense, ovvero quelle pagine a Locandina che andavano a fare un'anticipazione di quello che è una saga che poi sarebbe uscita nel corto di qualche giorno o settimana a venire. In questo caso c'è anche lo studio del teaser della Locandina, poi semplicemente chi è Nucci, chi è Panaro e chi è Petrossi, come vedete Nucci lavora nel mondo dei fumetti dal 2013, quindi non è novizio alla cianeggiatura, però al mondo Disney assolutamente. Poi vedo ancora una paginetta, niente, semplicemente che c'è davanti prima di quello che è già uscito e di quello che uscirà. Io di questi fumetti non mi interessa niente perché penso che comprerò solamente Mister Vertigo se quando uscirà parte 2, comprerei il volume su Casti se dovesse uscire, anche se dubito perché non ha fatto una saga ma semplicemente una serie di storie, sicuramente potrebbe uscire il suono Macchia Nera quando avrà la sua conclusione, quindi oltre le due o tre parti che sono già uscite, ma fino a quel momento non ne comprerò altri, non tanto per il prezzo che comunque sono 13 euro, ma tanto per il fatto che è una saga che io ho già letto, comunque in un fumetto recente, che per quanto sia in ottimo formato l'ho comprato solamente per omaggiare la saga. Quindi il consiglio, se avete amato Mister Vertigo, volete saperne qualcosa di più a livello di curiosità, che poi non ce ne sono così tante, volete leggerla in grande formato, se ne sono baciuti i disegni, amate Petrossi, Panaro e Nucci, bene, compratelo, comprate già le Gold X Edition a maggior ragione, ma se la saga l'avete letta e non vi ha colpito più di tanto, meglio sia all'inizio come tutti, ma poi è un po' scemata, secondo voi potete evitare, anche perché non c'è un grande studio, secondo me, a parte il grande formato, ecco, mi aspettavo dei redazionali un pochino più corposi, invece abbiamo proprio dieci pagine finale e tutto il resto è la riproposizione della saga su pagina bianca, che è quello che uno si aspetta anche dal topo, ma con questa bella mossa editoriale furba, cosa fanno? Sul topolino pubblicano la storia, in formato purtroppo scadente, e poi se la vuoi leggere in grande formato, te la mettono tutte insieme, che poi è da vedere, perché qui manca al finale, ovviamente ha un prezzo maggiorato di quattro volte in più, ma dettagli che però io ci faccio caso e non mi faccio troppo ammaliare. Ragazzi, per oggi è tutto, io comunque l'ho comprato, lo terrò senza problemi, lo metterò in collezione, visto che è di Marco Nucci, ecco, non dico che vorrei avere tutto, però sicuramente questa saga a me ha colpito molto. Ciao ragazzi, alla prossima!